La vittima è una donna, l'omicida il marito, fra i 65 e i 69 anni, una coppia collaudata. Poi un litigio non abituale, secondo la cronaca, finito nell'uccisione della donna. Un raptus? E questo è il cliché usato in linea di massima per raccontare gli atti di violenza commessi su mogli, fidanzate e compagne di pochi mesi di una vita. Ma è un racconto che non fa un buon servizio alle vittime, perché induce a pensare che contro il raptus di un momento non ci sia rimedio. Non è questa la verità. La violenza degli uomini sulle donne deve essere raccontata in modo diverso. Il dramma è certamente delle vittime, ma il problema è negli uomini ed è un problema contro cui bisogna attivare una vera e propria condanna sociale, una censura etica e civile che non ammette giustificazioni, perché in caso contrario finiremo per ammettere che sì, uccidere una donna, stuprarla, picchiarla, perseguitarla è male, ma un male inevitabile e soprattutto non prevedibile. Le donne, quelle, devono sì imparare a denunciare compagni violenti, ma il problema non può essere solo delle vittime tenute ad essere anche coraggiose e a sfidare denunciando la violenza. L'aiuto e l'appoggio dei centri antiviolenza e il sostegno delle associazioni femminili è senza dubbio necessario, ma non basta più, né bastano le associazioni, poche ancora in realtà, degli uomini maltrattanti. Così, mentre si cerca di mettere al bando, anche nel nostro paese, la spettacolarizzazione mediatica dei femminicidi e si mettono al bando le parole frutto di pregiudizi e di stereotipi pericolosi, oggi si sente sempre più la mancanza di una mobilitazione vera della componente maschile della società a tutti i livelli contro questi atti. Serve una denuncia corale del mondo maschile e il rifiuto di un maschilismo beccero che nasconde dietro alla violenza contro la compagna indifese più debole la vera debolezza dei sentimenti e dell'intelligenza degli uomini violenti.